Musica Venerdì 26 maggio, benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Partiamo subito con la cronaca, dramma ad Agropoli, 65 anni, trovato morto davanti la sua abitazione. La tragedia si è consumata questa mattina tra Agropoli e Ogliastro Cilento, intorno alle ore 10. Immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Agropoli e inviata dalla centrale operativa del 118 un'ambulanza rianimativa della Croce Gialla. La vittima era precipitata al suolo ma presentava anche una ferita d'arma da fuoco. Sul caso stanno indagando i carabinieri, ovviamente nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti. E restiamo ad Agropoli e allarme furti in località Moio. I cittadini ovviamente chiedono più controlli sul territorio e a questo proposito l'amministrazione comunale, proprio questa mattina, ha organizzato un incontro con i cittadini e i commercianti di località Moio. Ma ci racconta tutto nel servizio Raffaella Giaccio. Incontro presso la casa comunale con il sindaco della città di Agropoli, Roberto Mutalipassi, da parte del comitato Rione Moio, nella persona del presidente Annarita Spira, ma anche di tanti cittadini e commercianti riguardo la sicurezza nella contrada Moio. Tante sono state insomma le richieste, ma c'è stata anche un'apertura da parte dell'ente comunale. Vi spieghiamo tutto nell'intervista realizzata con il presidente Annarita Spira. E al termine di questa riunione richiesta appunto dal comitato Moio, nella persona del presidente Annarita Spira, ecco tracciamo un attimino un po' il bilancio di come è andata. Tante sono state le richieste, ma abbiamo visto anche un'apertura da parte dell'amministrazione, quindi è bene insomma dirlo anche ai microfoni di Infocilento. Buongiorno, noi siamo contenti, personalmente mi ritengo soddisfatta, mediamente soddisfatta. C'è stata sì una bella sinergia, siamo riusciti a farci ascoltare e abbiamo ricevuto delle notizie interessanti che riguardano la videosorveglianza. A breve saranno installate 45 telecamere che poi diventeranno un numero maggiore nei prossimi mesi e alcune con intelligenza artificiale quindi avranno lettura targa e comunicheranno in tempo reale con le forze dell'ordine. Diciamo che la nostra sensazione è quella legata alla sicurezza personale, insomma non so quanto possa essere risolutivo un sistema di videosorveglianza laddove non ci sia qualcuno che in tempo reale guardi le immagini. C'è stato detto, c'è stato confermato che ci sarà una sala operativa che tra Polizia Locale e Carabinieri, Comando dei Carabinieri, riuscirà a controllare queste telecamere, questi video in tempo reale. Abbiamo chiesto un delegato alla sicurezza che al Comune di Agropoli non c'è, ci è stato detto che probabilmente a breve sarà istituita una commissione sicurezza e avevamo chiesto una sorveglianza privata, ci hanno detto che probabilmente è una cosa che non può essere fatta, in altri comuni è stata fatta, vedremo. Ci sono tante cose da fare e il fatto che siamo stati ricevuti, il fatto che siano state prese in considerazione le istanze della comunità ci fa ben sperare per il futuro, che si realizzi questa sinergia tra le forze dell'ordine, il Comune, il Sindaco e le contrade, perché non siamo i soli, ci sono anche le altre periferie, perché siamo quasi sempre noi ad essere presi di mira. Siamo quelle un po' più isolate e quindi siamo visitati spesso, siamo oggetto dei desideri dei ladri ogni anno. Grazie a Narita, con l'augurio che tutto questo davvero possa risolversi nel migliore dei modi e di attivare al più presto tutte queste richieste, non solo per il Regione Moio, come diceva a Narita, ma anche per le altre zone della città di Agropoli, che comunque è un territorio molto molto vasto. Quindi grazie ancora per l'attenzione. E restiamo sempre ad Agropoli, ci spostiamo all'Antiquarium Comunale, un tesoro nascosto che attende di essere rivelato al pubblico. Il Sindaco Roberto Mutalipassi ammette che si sono registrati dei furti e il Consigliere Comunale Raffaele Pesce annuncia che presenterà un esposto. Ma vediamo il servizio di Raffaella Giaccio. Perché l'Antiquarium di Agropoli è chiuso al pubblico da oltre un anno? Se lo chiede il Consigliere Comunale Raffaele Pesce, nel Palazzo Civico delle Arti infatti, si trova un piccolo museo inaugurato nel 2011 e che raccoglie diversi reperti archeologici, alcuni dei quali di grande interesse, ritrovati sul territorio agropolese. Eppure l'Antiquarium è da tempo inaccessibile. Raffaele Pesce, Consigliere Comunale, ha annunciato di aver presentato nei giorni scorsi un esposto ai carabinieri di Agropoli, denunciando appunto la mancata possibilità di accedere all'Antiquarium nonostante le sue ripetute richieste. Dopo una serie di interrogazioni in Consiglio e tentativi di sollecito, Pesce ha deciso di prendere misure legali per tutelare reperti conservati e i suoi diritti come consigliere comunale. Da Palazzo di Città, il sindaco Mutalipassi ha invece chiarito che all'Antiquarium, purtroppo, sono stati registrati dei furti dopo che l'ingresso è stato forzato. Come amministrazione siamo venuti a conoscenza qualche giorno fa dopo che abbiamo sollecitato il responsabile del patrimonio ad aprire l'Antiquarium che ricordo a tutti era chiuso perché il Palazzo Civico delle Arti è stato oggetto e ancora oggetto di lavoro e strutturazioni da parecchi mesi però a seguito delle solicitazioni fatte dal Consiglio di Minoanza ma anche dal sottoscritto perché giustamente ci teniamo oltre che dal responsabile della cultura Franco Crispino ci teniamo alla tutela e salvaguardia di quelli che sono appunto i reperti archeologici, storici, culturali di cui la città è dotata appunto abbiamo dato impulso al nuovo responsabile dell'ufficio patrimonio l'ingegnere Sica di adoperarsi affinché venisse aperta la sala insita nel Palazzo Civico delle Arti dove appunto era posto l'Antiquarium all'ingresso lo stesso responsabile del patrimonio si è reso conto che c'erano state delle manomissioni e ha fatto denuncia e molto probabilmente adesso si stanno facendo i confronti con quelli che era l'inventario, con quello che è stato trovato per capire con certezza che cosa manca però sono stati regolarmente denunciati ringrazio di questo appunto il responsabile che è prontamente intervenuto e è prontamente intervenuto verso le forze dell'Undra per denunciare l'accaduto in modo da poter far sì che con le indagini si possa fare il possibile affinché possano essere recuperati il più possibile di questo materiale che è stato trafugato da quei locali E restiamo sempre nella città di Agropoli presto i lavori per il commissariato di polizia e un nuovo sistema di videosorveglianza infatti i cittadini anche a questo proposito chiedono maggiori controlli sul territorio anche per frenare quelli che sono episodi di microcriminalità e a questo proposito abbiamo intervistato il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi ci racconta tutto Raffaella Giaccio Per quanto riguarda il presidio di polizia di Stato insomma che c'era un ITER in corso che ci può aggiornare anche per incidere su questa cosa Anzi ti ringrazio della domanda per così posso aggiornare i cittadini anche dell'evoluzione che ci sono state rispetto agli ITER di queste due realizzazioni oltre che del commissario di polizia anche della nuova caserma dei carabinieri Sembra la strana ma purtroppo la lentezza burocratica Prima ho parlato per quanto riguarda il maniero di sovrintendenza archeologica e ambientale in particolare per quanto riguarda la realizzazione del commissariato di polizia abbiamo avuto nonostante anche pressioni da parte del prefetto e della questura stessa nei confronti della sovrintendenza ambientale sovrintendenza ai beni archeologici abbiamo avuto purtroppo delle limitazioni delle osservazioni alle quali proprie notizie di pochi giorni fa siamo riusciti finalmente a definire una quadra quindi adesso il progetto è definitivo siamo in attesa dell'ultimo parere della sovrintendenza dopodiché possiamo procedere perché ricordo noi abbiamo già come ecocittà abbiamo già stipulato il contratto di mutuo con la Cassa Diapositi e Presti per la realizzazione e abbiamo già l'area disponibile sia per il commissariato che per quanto riguarda la caserma dei carabinieri la caserma dei carabinieri purtroppo stiamo in attesa dell'ultimo ok da parte del comando generale che ci hanno chiesto una piccola modifica nel progetto per quanto riguarda le aree da destinare ad alloggi le abbiamo definite veramente è questione di giorni per avere l'ok definitivo e poter fare il bando di gara per entrambi gli edifici ci spostiamo adesso a Pisciotta e precisamente a Marina di Campagna di Pisciotta dove si è registrata una frana iniziati appunto i lavori allo studio soluzioni ma la situazione è seria nei giorni scorsi con il susseguirsi di eventi comunque atmosferici come pioggia incessante sul territorio occidentano si sono registrati diversi smottamenti ma ci racconta tutto nel servizio Silvana Romano iniziati i primi interventi sull'asse viario ceduto in località Marina Campagna frazione di Pisciotta in seguito ai nubi e fragi del 2 maggio scorso metà della carreggiata era scivolata nella scarpata sottostante tanto da determinare l'interdizione dell'intero percorso a tutti i mezzi veicolari inclusi quelli sanitari e della protezione civile dopo l'ondata di maltempo all'inizio del mese di maggio scorso infatti era stato necessario chiudere la strada 467 detta Rizzico proprio a causa del cedimento di parte dell'asse viario che collega Marina Campagna a Pisciotta in un tratto oltre ad aprirsi delle enorme crepe si era assistiti al collasso del manto stradale inghiottito dalla scarpata sottostante un colpo di grazia su quella strada costiera perché di fatto l'unica che collega Pisciotta è frazioni con ascea ai paesi viciniori ed è stata chiusa impossibile raggiungere quel tratto di costa senza percorrere il tratto alternativo la Cilentana parallela alla SS 467 che dopo l'uscita sulla Mingardina consente prima di arrivare a Palinuro poi tornando indietro a Caprioli e Pisciotta un danno per i pendolari per i corrieri ma prima di ogni cosa un rischio enorme in caso di necessità sanitarie attualmente poi la Mingardina è chiusa per lavori urgenti dunque bisogna utilizzare un altro percorso alternativo per raggiungere queste località costiere passare per cento le frazioni da alcuni giorni sono all'opera mezzi e uomini per cercare di mettere in sesto la carreggiata ma la situazione non sarebbe di facile soluzione sembra infatti siano necessari interventi infrastrutturali più importanti che sarebbero allo studio di esperti geologi nell'immediato si vorrebbe assicurare almeno la percorrenza della strada in un senso unico alternato tanto da consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza Ci spostiamo adesso a Battipaglia precisamente in località più Europa un'area abbandonata e dilaniata dalla violenza la situazione attuale è allarmante poiché l'area dello scalo ferroviario è ormai dominata dalla criminalità gli episodi sono all'ordine del giorno mettendo a rischio la sicurezza e il benessere dei cittadini i dettagli nel servizio vediamo è totalmente abbandonato il più Europa Battipaglia l'area della stazione ferroviaria dove spesso si verificano episodi di violenza di criminalità e di micro criminalità è divenuta terra di nessuno questo è essere il biglietto di ingresso il biglietto di visita di questa città nel 2008 era un progetto ambizioso e l'ambizione è finita così in questo modo nel senso che io ci vengo ci sono passato adesso insieme a voi giusto per dare uno sguardo e veramente mi vergogno di quello che è lo stato in cui versa faccio appello anche a quel vano dell'ascensore che è pieno d'acqua e che può essere pericoloso per qualche bambino che potrebbe rimanerci affogato dentro per cui la messa in sicurezza è impellente ma il degrado totale in cui versa il parcheggio, le erbacce e poi è diventato un covo praticamente di tossicodipendenti che non si perdono d'animo per arrivare qui alla strada parallela che via Plava perpetrare dei furti e poi scappare e dileguarsi stiamo vedendo e stiamo assistendo in questi giorni a tutta una serie di aggressioni ma puntualmente le aggressioni partono da via Plava per sfociare poi nelle scappatoie e nelle vie di fuga che poi portano alla stazione e dall'altra parte probabilmente del Pio Europa questo è il Pio Europa doveva essere veramente il fiore all'occhiello di questa città i turisti dovevano venire i cittadini dovevano parcheggiare dall'altra parte della ferrovia arrivare qui su questo ponte a piedi e entrare nel centro c'era bisogno di unire Battipaglia con gli altri rioni Tavella Tabacchificio ma nulla è stato fatto non so adesso quali sono le procedure che hanno bloccato tutto questo questo ITER fatto sta è che sono già dal 2016 2017 quando questa amministrazione si è insediata e hanno grazie al nostro lavoro dell'amministrazione 2008 e l'amministrazione 2009 grazie a noi hanno visto mettere questo ponte e da allora il progetto si è fermato quindi non ho parole sinceramente non ho parole io le telecamere penso che possano testimoniare qual è lo stato in cui ci troviamo questa doveva essere una zona doveva essere il polmone di Battipaglia avevamo detto che bisognava metterci delle piante d'alto fusto la gente doveva scendendo dal treno oppure uscendo da qualche ristorante poteva fermarsi anche durante il giorno per rinfrescarsi sotto l'ombra di qualche piano sembra un deserto sembra proprio un deserto e andiamo adesso nella piana del Sele precisamente ad Eboli consulta provinciale delle politiche sociali oltre 46 le adesioni giunte dai vari enti e cooperative sociali che operano sul territorio provinciale la nostra corrispondente Silvana Scocozza ha intervistato per noi il consigliere provinciale Filomena Rosamilia vediamo siamo in compagnia del consigliere provinciale Filomena Rosamilia una persona molto vicina al presidente della provincia Franco Alfieri che ha ideato voluto e fortemente sostenuto la realizzazione e la messa in pratica dopo la fase progettuale della Costituzione della consulta delle politiche sociali una consulta che chiama al rapporto le realtà del terzo settore di tutti i 158 comuni della provincia di Salerno e che va ad articolarsi pian piano con nuove e belle realtà che si stanno iscrivendo e che stanno chiedendo alla provincia di Salerno e quindi al consigliere Rosamilia che è delegata alle politiche sociali sanitarie alle pari opportunità di entrare a far parte di questa grande famiglia consigliere è proprio di queste ore una delle ultime riunioni che avete tenuto qui in provincia di Salerno Sì buon pomeriggio a tutti e grazie Silvana grazie al presidente Alfieri che ha fortemente venuto come detto poc'anzi l'istituzione di questa consulta abbiamo ricevuto circa 46 adesioni sinora abbiamo fatto due diversi incontri dove ho visto una nutrita partecipazione e tanto entusiasmo dagli enti locali alle associazioni ai libri professionisti e devo dire che abbiamo ricevuto tante risposte positive proprio perché la gente ha la necessità di creare questa sinergia questa rete territoriale perché vogliono anche loro far sentire la propria voce soprattutto per le categorie diciamo meno meno fortunate che sono quelle dei disabili abbiamo i detenuti c'è l'anziano fragile però tocchiamo vari temi sino ad arrivare alle donne vittime di violenze il consigliere provinciale Filomena Rosamilia mantiene le deleghe alle politiche sociali alle politiche sanitarie e alle pari opportunità diversi sono i progetti che sono in cantiere da dove ricominciamo? proprio questo mese di giugno abbiamo calendarizzato vari convegni e quindi vari appuntamenti che partono da quelli inerenti al supporto psicologico a quello invece di alcune realtà che si occupano di prevenzione oncologica faremo dei convegni anche con degli esponenti della giunta regionale proprio perché in doppio vesti di questo cito il dottore Tommaso Pellegrino che è sempre vicino a questo tipo di iniziative su altri fronti invece stiamo portando avanti dei progetti nei comuni limitrofi di Serra e Altavilla per quanto riguarda le case di fuggio delle case di accoglienza per ragazze madri e anche per adolescenti senza una famiglia alle spalle ci auguriamo di portare avanti altri progetti perché ci rendiamo conto che la domanda verso queste richieste queste situazioni diventa sempre più alta e spesso i territori non riescono a dare una giusta risposta e ritorniamo ad Agropoli restyling di via Pisacane a giugno è prevista la riapertura del tratto manca davvero poco infatti al completamento degli interventi di messa in sicurezza e restyling di via Carlo Pisacane l'importante arteria stradale che collega il porto turistico con via Granatelle ma vediamo tutto nel servizio manca davvero poco al completamento degli interventi di messa in sicurezza e restyling di via Carlo Pisacane l'importante arteria stradale che collega il porto turistico con via Granatelle grazie ai finanziamenti ottenuti dalla precedente amministrazione comunale è stato possibile avviare le opere attualmente gli interventi stanno interessando al montaggio della ringhiera lungo il percorso un'opera d'arte che richiama le onde del mare donando un tocco di estetica nel prossimo mese di giugno questa importante area verrà restituita alla piena fruibilità e con essa anche il palazzo civico delle arti che sorge proprio lungo questa arteria stradale soggetta a lavori così il primo cittadino Roberto Mutalipassi l'intervento di messa in sicurezza e restyling di via Carlo Pisacane è stato reso necessario a causa delle criticità presenti da tempo lungo questa strada un fenomeno franoso ha infatti causato il dissesto dell'asfalto e del muretto adiacente alla carreggiata compromettendo la stabilità dell'intera area un'attenzione particolare infine è stata dedicata alla pavimentazione della strada l'asfalto usurato e danneggiato verrà completamente sostituito con la pietra cilentana una scelta che conferirà un fascico unico a via Carlo Pisacane ci spostiamo adesso nel Vallo di Diano precisamente a Teggiano la finanza di Salerno in visita alla scuola primaria e dell'infanzia maestre pie filippini si è svolto infatti un incontro sull'educazione e la legalità economica promosso dalla dirigenza e dal plesso del comando provinciale della guardia di finanza di Salerno scopo della manifestazione era appunto divulgare il concetto di sicurezza economica e finanziaria anche e soprattutto attraverso il contatto diretto e la collaborazione con le forze dell'ordine al fine di sensibilizzare ovviamente le nuove generazioni e andiamo adesso nella città dei Templi a Pestum infatti la manifestazione ambientalista organizzata da Lega Ambiente fino al 28 maggio saranno oltre 300 giovani a Pestum a chiedere giustizia climatica filo conduttore di questa quinta edizione e quella dell'attivismo invece che mobilitazione ambientale sociale e per la pace un progetto volto a sensibilizzare i giovani i cittadini e le imprese riguardo gli effetti dei cambiamenti climatici e le strategie per contrastarli torniamo nuovamente ad Agropoli il laboratorio teatrale degli alunni del liceo Alfonso Gatto di Agropoli lunedì 29 maggio alle ore 11 presso il Cineteatro Eduardo De Filippo presenterà la guerra spiegata ai poveri di Ennio Flaiano un progetto proposto appunto dal liceo Gatto dalla dirigente scolastica Anna Vassallo su interessamento delle docenti Cinzia e Giublizzi e Anna Maria Scola si è articolato appunto da gennaio a maggio questo grande progetto con la supervisione della direttore artistico del Cineteatro De Filippo Pierluigi Orio e la cura del suono di Luciano Tarullo sarà un viaggio ironico e sarcastico attraverso i sentimenti e il non-sense della guerra di ogni tempo e adesso restiamo sempre su Agropoli una bellissima sorpresa questa mattina il Ciclode uno dei più grandi velieri al mondo fa tappa in città questa nave da crociera a 5 stelle misura pensate ben 109 metri oltre all'equipaggio può ospitare a bordo fino a 64 passeggeri non è la prima volta che il Ciclode visita la zona infatti aveva già fatto visita qui nel Cilento e ad Agropoli e il Ciclode è stata costruita nel lontano 1931 nei cantieri in Germania all'epoca era il più grande yacht privato a vela al mondo con i suoi 4 alberi maestri che superavano i 50 metri di altezza e 29 vele di oltre 3000 metri quadri e adesso ritorna il consueto appuntamento con la rubrica sportiva passo la parola a Manuel Chiariello amici di Infocilento ben ritrovati al nostro consueto appuntamento del venerdì dedicato alla nostra rubrica sportiva per ripercorrere analizzare ciò che avverrà nel weekend sportivo del nostro territorio ma non solo partiamo infatti dal calcio e dall'agropoli che domenica alle ore 16.30 in casa allo stadio Guariglia si giocherà l'andata delle semifinali nazionali playoff contro il Città di Serena una sfida di importanza vitale per i ragazzi di Mister Turco che inseguono il sogno Serie D ascoltiamo subito il servizio di Alessandro Pippa l'US Agropoli in vista della semifinale nazionale contro Lisernia continua ad allenarsi intensamente per raggiungere l'obiettivo Serie D mancano pochi step all'obiettivo finale Mister Turco e Giuseppe Natiello analizzano il momento e chiamano a raccolta tutti i tifosi per la partita di domenica appuntamento ore 16.30 allo stadio Raffaele Guariglia per la prima delle due sfide che decideranno la finalista nazionale quando si arriva a questo punto dell'anno dell'annata calcistica si incontrano sempre squadre l'esperienza mi dice che si incontrano sempre squadre di grande livello Lisernia ha una storia importante e questa è una squadra che ha dato del filo da torcere al campo basso che era uno squadrone per intenderci una squadra tipo San Marzano che ha fatto grandissimi investimenti e Lisernia ci è arrivato a due punti sotto quindi noi dobbiamo avere grandissimo rispetto dell'Isernia calcio è una squadra che bisogna prendere con le molle studiarla bene e cercare di capire dove poterla far male L'Agropoli arriva a questa sfida con un buon livello atletico avrebbe preferito probabilmente giocarla subito la partita e non attendere queste due settimane di sosta probabilmente si hai ragione perché la squadra in quel momento ha raggiunto un ottimo stato di forma però abbiamo lavorato abbiamo cercato di fare parecchi amichevoli proprio per mantenere la condizione giusta adesso ci accingiamo a fare una settimana importante la settimana che precede la gara qui ad Agropoli cercheremo di capire quali saranno i calciatori che hanno la condizione migliore e che ci possono permettere di fare una prestazione importante così come fatto nelle partite precedenti dei playoff Nell'arco dei 180 minuti quanto sarà importante la partita di domenica in casa e quanto può influire come sempre il pubblico agropolese lo spero che ha detto una cosa giusta il pubblico deve darci una grossa mano deve cercare di spingerci tantissimo domenica deve dare prova dell'amore verso questa squadra la squadra se lo aspetta onestamente bisogna avere un pubblico forte dalla nostra parte perché in queste gare è fondamentale sì sarà una sfida bellissima affascinante sappiamo però il nostro valore quindi ci giocheremo le nostre carte alla grande e speriamo di passare il turno abbiamo fatto di tutto per arrivare fino a qui spero che saranno in dandi sulla tribuna per sostenerci e darci una mano e vanti più di 100 presenze con l'agropoli che orgoglio sarebbe raggiungere la Serie D sarebbe un grande traguardo purtroppo mi è andata male con questa maglia già per tre volte speriamo che quest'anno sia l'anno giusto la Polisportiva Santa Maria invece ha ottenuto il secondo posto nella speciale classifica Giovani di Valore che premia le società più virtuose della Serie D nell'utilizzo dei giovani in campo la squadra giallorossa ha accumulato un punteggio di 1047 punti a poca distanza dalla Viponese che con 1177 punti si è giudicata il gradino più alto del podio nel girone I ora cambiamo sport passiamo alla basket perché è stato un giovedì amaro quello di ieri per la Polisportiva Basket Agropoli che è caduta in gara 2 nella sfida playoff contro il Cercola il punteggio finale è di 73 a 65 con i delfini di coach di concilio che ora sono chiamati a vincere a tutti i costi gara 3 al pala di concilio domenica alle ore 20 e 30 tanta attesa anche per le ragazze della New Basket Agropoli Pestum che sempre domenica alle 18 saranno impagnate in casa per gara 2 contro il Livorno dove il successo della prima partita per 52 a 50 avere il sostegno del proprio pubblico sarà una spinta in più per fare bene e continuare il sogno Serie A 2 una partita che si pronuncia spettacolare e molto equilibrata c'è chi invece la storia l'ha già scritta ed è l'Atletica Agropoli che ha conquistato con grande sforzo e fatica la promozione in Serie B nazionale con il campionato italiano che si giocherà proprio ad Agropoli il 10 e 11 giugno vediamo tutto nel dettaglio con il servizio dedicato l'Atletica Agropoli guadagna la tanto attesa promozione in Serie B grande entusiasmo tra i ragazzi che hanno partecipato alle numerose discipline affrontate con altrettante medaglie vinte successo che capita poche settimane prima dei campionati nazionali che si svolgeranno ad Agropoli doppia soddisfazione per la realtà agropolese che potrà mostrare tutto il suo valore davanti al pubblico di casa abbiamo raccolto le sensazioni di alcuni degli atleti protagonisti della promozione capeggiati dall'allenatrice Angela Gargano quanto lavoro e quanti sacrifici si sono dietro a questo grande risultato? c'è tanto lavoro dietro questo risultato abbiamo fatto 10 giornate gare per raggiungere questo risultato dal primo aprile che i nostri ragazzi hanno iniziato a gareggiare l'obiettivo era la Serie B per questa prima parte di stagione ed è stato raggiunto finalmente perché è un risultato storico che cercavamo da anni non è stato semplice i ragazzi infatti hanno dovuto migliorarsi gara dopo gara per poterlo raggiungere ma sono stati veramente grandiosi tutti sia la squadra femminile che la squadra maschile promozione in Serie B che coincide anche con il campionato che verrà disputato ad Agropo il 10-11 giugno quindi doppia soddisfazione sì avevamo fatto richiesta per organizzare il campionato si terrà qui quindi giocheremo in casa e penso che per i ragazzi sarà una doppia emozione poter disputare un campionato italiano in casa dopo il 10-11 avremo anche i campionati italiani under 23 sempre qui ad Agropoli quindi alcuni di loro che hanno raggiunto anche i minimi a livello individuale rigareggeranno in casa infine se tu dovessi esprimere un pensiero alle persone o ragazzini che vogliono avvicinarsi a questo sport visto questi successi che cosa gli diresti per avvicinarlo? che l'atletica è uno sport individuale si migliora i propri personali giorno dopo giorno con la crescita ma è anche uno sport di squadra e la nostra Serie B lo dimostra lo dimostrano le nostre squadre e quanto di bello si può fare tutti insieme quali sono le tue emozioni dopo aver raggiunto questo grande obiettivo della Serie B seguito a lungo dall'Atletica Agropoli finalmente raggiunto sognavamo da tanto tempo questa Serie B molti anni ci siamo andati vicino e quest'anno c'era una magia in più nell'aria cioè lo sentivamo aspettavamo le gradatorie con tanta ansia e finalmente sia il maschile che il femminile siamo dentro ed è un risultato storico per noi in che disciplina andrai in campo? allora per la Serie B io scendo con la 4% e anche il campionato di società ho coperto la 4% quindi speriamo che con le altre staffettiste di migliorare il tempo del CDS e riuscire a portare il nome dell'Atletica Agropoli più in alto possibile tu che sei una rappresentante dell'Atletica Agropoli come ti sei avvicinata a questo sport? che messaggio vorresti lanciare ai ragazzini che si avvicinano per la prima volta a un percorso sportivo e che magari possono scegliere in futuro anche l'Atleti? allora io mi sono avvicinata tramite la scuola Angelo mi ha selezionato e ho incominciato a fare atletica e da quando mi sono avvicinata non l'ho più lasciato il messaggio che voglio dare ai ragazzi è che è nata l'Atletica Agropoli come una piccola realtà ma ora cioè grazie al lavoro fatto da Angelo e da tutti quanti stiamo riuscendo a raccogliere tutti i frutti di questi anni di lavoro e ora ci godiamo alla Serie B eccoci con Pascal D'Angelo altro protagonista di questo campionato di Serie B raggiunto le tue emozioni le abbiamo chiesto un po' a tutti raccontaci anche le tue sono state emozioni cioè forti abbiamo abbiamo scritto una pagina di storia diciamo con l'Atletica e sono felice di aver dato il mio contributo alla squadra e adesso cerchiamo solo di migliorare passo dopo passo adesso ci saranno proprio i campionati qui ad Agropoli il 10 e 11 giugno tu in che disciplina andrai a gareggiare? andrò a gareggiare sui 110 ostacoli e darò anche una mano sulla staffetta 4% infine l'Atletica Agropoli è un movimento sempre in più in espansione tu cosa potresti dire ai giovani che si avvicinano a questa disciplina e magari tu che ne sei dentro come ti trovi qui ad Agropoli in questa splendida società? ma cercare sempre di divertirsi di avere sempre nuovi stimoli e quando si va in vista dare il massimo senza pensare a niente cioè divertirsi credo che sia la cosa fondamentale a fine di uno sport a finale di uno sport infine concludiamo con il volley con la formazione agropolese maschile che sarà impegnata alla Pala Green domenica alle ore 11 contro la Massimo Soldani Scafati nel campionato di prima divisione è tutto per questo appuntamento restituiamo la linea a Roberta e per oggi è tutto grazie come sempre per averci seguito io rimando l'appuntamento con l'edizione del telegiornale a lunedì grazie Grazie a tutti